Il Noi Tech Park di Brunico è un'importante infrastruttura che raccoglie l'università, i reparti di ricerca e sviluppo delle imprese, specialmente nel ramo di un'economia sostenibile, di una mobilità ecologica e naturalmente anche i start-ups, un centro congressi per giovani, un centro di incontro e speriamo che da questo nasca una buona collaborazione tra l'economia privata, l'università e la provincia.